Benvenuti a Summoner's Rift Delle scene telefoniche, dici? Ma non so, non so Non credo Magari tipi niente potrebbe essere un problema di Irlion Sta cazzo di chatto Eh Jack, 850 mesi Non è impossibile una vita di un uomo Quanto, in cento anni, quanti mesi ci sono? 1200 Quindi nessuno streamer può mai avere mille mesi di sub A meno che uno non dice al figlio Continua questa sub a questo ragazzo Anche quando sono morto faccio streamare il mio figlio Continua a streamare che quel ragazzo deve fare mille mesi di sub Continua a streamare Continua a streamare Continua a streamare Oddio Nico 87 mesi di sub da soda poppin 87 mesi ma infatti chissà quanto c'è il primo Cioè il primo Persona che ha fatto la sub a un canale quanto sia continuo Non muoio però no Vedremo un'altra riposta ragazzi ovviamente Dovevo esserci nuovo l'IBR C'è il sito che lo dice 120 mesi sono 10 anni Porca miseria Ma adesso si è bugata la Wait Chat? Ma adesso che è successo? Non gli ho fatto danni con l'hormle attack dopo Mi fa piacere Ise Mi fa molto piacere Ho presso 10 anni a sto punto Eh ma ci sta Dove c'è la quanta che c'è Dio fa spiegare lo shield a Camille Molto bene Va dark in quel tizio? Molto bene allora BAM Non so Perché ho deciso di fare questa cosa a Gain Lei non può tank a tutti Se si asperde troppo Camille Ok Champ Farisco le scappe col dump Tosto alla Shin Tanto il potenziale di kill Ce l'avrò dopo dopo Adesso riesco solo a farmare e basta C'è BAM Anzi È vero che mi aveva just in tp prima E le tiravo dal 2007 Era tirato dal 2007 No no voglio farmare Voglio farmare e basta Quindi faccio cd Poi magari dopo farò tabby My easily game faccio cd Devo farmare Magari quando inizio a gruppare Farò tabby Ho per ora Farmare Soprattutto Vediamo il buon plotting E so Fare il stack di qua è importantissimo, molto importante Che me è mid, ho regalato Ho regalato La Cogni 4.3 è magia 123 Senza Shee non la chillerò mai ovviamente Però Ma dove puoi c'è sta wave bro? Quello c'è la R eh Perché non ha bruciato la wave? Comunque Dici come me la fa frizzare Vedi che coglioni Ok no è stupido Vabbè va bene Stack 132 È buona la kill su Kayn Kayn deve rientrare in game sicuramente Camille Più andiamo avanti nel game e con Grasp in Night più sarà inutile È il game di Nasus Mi ha fatto l'Eerald Bravi Il bot come sta andando? Bene bene Questa è andata con un link della gioca più agro a loro Mid sta pure andando abbastanza bene contro Yasuo Quindi mi va bene Andranno verso il Drago immagino Senza ulti devo stare attento Lei non c'è la Cogni Non c'è la Cogni Faccio lei qua solo me lo voglio il bomb lading Non c'è la Cogni Molto bene Abbiamo messo la 12 stack qua ragazzi Trista triste E bot Super fight Non risulta con l'oro Volume core l'Eerald Lei ha tippato Regalerò anch'io Lei qua c'ha atp E c'ha ignite ulti Quindi Meglio non rischiare Magari tipo bot Magari no Magari no Devo stare attento Perché lei c'è ignite e ulti Io non c'ho l'ulti mia Ok Ok Cresci perché ti feci diare prima bro Eh se lo trovi Con le cdi aree Te li dretto Lei qua è un po' inutile perché tanto sto max Non lo piovo come seconda però Non puoi danni andare che è meglio di niente 240 stack a 12 minuti Not bad Andiamo di Triforce Una volta chiusata Triforce Builderemo Troseneert No jg Troseneert no Sicuramente andrò di Tormail Ma sapete che potrei Siete che potrei fare Frozen Earth Warmog? O Frozen Earth Sterak magari Potrei fare la Sterak Prima facciamo Brumble che sarà comunque utile Faremo Frozen Earth Sterak O Sterak Frozen Earth Abbiamo 48 East 32% la cui ogni 2,36 Quello che volevamo Stacchiamo cosa è successo in domani 5 milioni a poi riesco a staccarli Forse solo 4 5 Prima Q 322 Poi con le stacche di Drivers 344 Guarda quanto cambia Poi con le staccarli Mucca, mucca, dio Camilla è ghioppato mi sa, poverina Non fa questo matchup Dopo un po' E' c'ho una, cosa vuoi che faccio? Non può fa niente Martina Come stai Marti? Pena in testa Beh ragazzi stiamo facendo sentire la presenza La signora Camilla Ha tiltato, è andata a mille Tutto bene, tutto bene Martina Non pensavo fossi sub di Deluxe, sai? Delu hurt Mod, no sub, mod, mod Ho detto sub? Volevo dire mod Qua c'era Camilla che l'avevo vista mid Un fight veramente di merda Ah Ah, sei Leditor Non lo sapevo Marti A testa di gazzio Ciao ste Ottimo, bravi bot Il game è vinto Grazie a me Allora adesso ha tutto Oh, le stack Le stiamo immaginando bene Madonna, guarda Con la Triforce 5,72 C'è Pazzesco Sul Nasus E appena beatiamo al Triforce Non abbiamo pure più attack damage Io so che glielo dici che lo dive Lo dico io, me sa E l'abbiamo detto noi Ciao termo L'ha capito Dai, l'ha capito L'avrà capito Vuoi che dire Sì, sì Avrà il coraggio di torna top Se non lo vuoi No, no Non torna top Dai Credo che Tristan si è vista Passata via da davanti Se non me Ha fatto When they ask you You are fine Then you are just fine But you're not really fine Tristan in questo momento Ah, guarda Idrona slipa Che non finisce più Regano Jungle Diff Che non finisce più L'ho fatto top damage Camille! Ma come cazzo è possibile? GG, GG, GG Madonna quanti gay